Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario è dedicata all'avvertenza Gela. Un incontro a Roma tra le rappresentanti del coordinamento donne del territorio e l'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi. Vediamo. Confronto proficuo e costruttivo con l'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi in merito allo stato di attuazione del protocollo d'intesa delle bonifiche dell'area SIN di Gela. L'avuto a Roma il coordinamento delle donne del territorio gelese è stata focalizzata l'attenzione sullo sviluppo sostenibile e sulle possibili risposte alla grave situazione sociale ed economica del territorio. C'è stata una grande disponibilità ad ascoltare le nostre proposte e soprattutto da parte dell'amministratore delegato abbiamo notato una volontà di stare a fianco al coordinamento e di aiutare a portare avanti le nostre proposte. Abbiamo affrontato tutti i temi che sono legati al nostro territorio. È stato un lungo confronto, molto costruttivo e noi siamo fiduciosi. Per il momento vogliamo fermarci solo a questo perché nel mercato delle illusioni sono state vendute tante cose in questa città. Noi vogliamo fare un altro percorso. Nel momento in cui avremo dei risultati da presentare alla città noi ci rivedremo. Siamo convinti che però siamo su una buona strada. Bisogna però fare di più sia col Ministero dell'Ambiente sia con la Regione. C'è ancora un lavoro da fare per sbloccare una serie di ITER che allo Stato sono bloccati. Quale sarà l'intervento dell'amministratore delegato? L'intervento sarà in direzione di una serie di richieste che noi abbiamo fatto. C'è un protocollo che è stato firmato. Ci sono tutta una serie di percorsi e di azioni da portare avanti. Loro sono disponibili e stanno lavorando, così ci hanno detto, in questa direzione. Noi abbiamo chiesto di accelerare. Adesso faremo una serie di confronti sia con la Regione che con il Ministero dell'Ambiente, con il quale siamo in contatto sia con il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente che attraverso la Presidente della Camera, anche con il Ministro Galletti. E quindi stiamo provando a fare più in fretta e soprattutto a provare. Quello che noi abbiamo chiesto all'amministratore delegato è quello di essere, oltre che un soggetto economico in questo territorio, anche un soggetto economico e sociale. Quindi aiutare il territorio, attraverso gli strumenti che possono mettere in campo, ad avere anche un ruolo in questa direzione. E noi siamo fiduciosi. E adesso occupiamoci della vicenda Porto di Gela. Sull'argomento abbiamo sentito il deputato regionale del Partito Democratico, Giuseppe Aranzo. Vediamo. Quando partiranno realmente questi lavori? Allora abbiamo delle date certe finalmente. Ho avuto rassicurazioni, ieri sono stato a Palermo, che entro dieci giorni verrà firmato questo famoso protocollo. C'è la bozza già definitiva. Quindi avremo la firma. Eni, ho parlato con il Direttore Generale di Eni, che mi ha assicurato che loro sono pronti. Quindi l'amministrazione, ho parlato con Siciliano, mi ha detto che è pronto. La Regione, ho parlato con il Segretario Generale e sono pronti. Quindi c'è semplicemente da fissare la data e mi hanno detto che entro dieci giorni verrà fissata. Con la firma del protocollo verranno trasmessi i soldi alla Regione, che verranno girate alla Protezione Civile. Da lì la Protezione Civile, che è sinonima di velocità, inizierà per prima cosa la tipizzazione delle sabbie. Avuto la tipizzazione si può partire con la gara. Quindi i tempi ormai dovrebbero essere scanditi. Quando la politica vuole, alla fine ottiene. Perché non si è pensato prima? Su questa cosa posso dire che ha lavorato un sistema. Io ho sempre pensato che in tutti i problemi ci volesse una cittadinanza attiva. E finalmente si è messa in moto la politica. I cittadini associati, perché non è che il sindaco cittadino può intervenire, ma le associazioni si sono messi a fare rete. Questo secondo me è un modello che dovremmo esportare anche sulle problematiche che riguardano la diga di Sueri, perché oggi nel momento storico contingente è l'industria più grossa che abbiamo. Le nostre dighe sono ammalate. Io penso che dovremmo costituire, lo proporrò ai miei, di costituire un altro gruppo di lavoro che segue le problematiche della diga fino ad arrivare al fine di poterla, è ammalata, a poterla guarire. Questo è l'obiettivo, perché da soli non si fa niente. Quindi creare la rete, politica, locale, deputazione regionale, tutti assieme e siamo in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo. Non è paradossale avere una città di mare come Gela, dunque baciata dal mare in cui il porto rifugio non è fluibile? Vi do una notizia. Venerdì sarà firmato il protocollo Sicilia, l'accordo tra la Sicilia e il Governo nazionale in cui c'è il porto, chiamiamolo grande per non confonderlo con questo, l'opera definitiva. Ci sono 60 milioni di euro, quindi presumo che anche qui ci siamo portati avanti perché questo lavoro che si sta facendo con la protezione civile è un lavoro previsionale. Previsionale significa che è integrato all'interno del grande porto, quindi sono già lavori che sono già stati fatti, la tipizzazione che già la stiamo facendo, quindi per il grande porto penso che ci saranno tempi più celeri. Qualcosa si sta muovendo. Congresso cittadino del Partito Democratico oggi a Gela, sentiamo. Repedì Cristina, oggi direzione cittadina del Partito Democratico, la presenza del segretario provinciale Giuseppe Gallè, che cosa è emerso alla fine? Intanto c'è un PD unito? Intanto c'è un partito, a differenza di altre situazioni, c'è un partito che si riunisce, che ragiona, che discute, anche oggi un'altra direzione partecipata in cui ancora una volta abbiamo ristabilito quella che è la linea politica del partito, che è una linea di grande coerenza rispetto al passato. Siamo all'opposizione rispetto a questa aggiunta perché riteniamo che oggettivamente abbia dei limiti, ma contemporaneamente ci prendiamo la responsabilità di essere un partito di governo a livello regionale e nazionale. E che cosa è emerso durante la riunione? È emerso che quella che era la seconda fase che ci eravamo dati insieme al gruppo, insieme al gruppo dirigente, al partito e a tutti i militanti, la metteremo in gambo, cioè quello di ritornare in mezzo alla gente. E per questo metteremo in gambo una grande iniziativa a metà ottobre per stare insieme alle nostre concittadine e ai nostri concittadini e mettere in gambo quella che secondo noi può essere l'alternativa possibile per questa città. Parliamo della festa dell'unità? Speriamo che sia la festa dell'unità. Stiamo lavorando affinché possa arrivare alla conferma, mancano alcuni dettagli, ci incontreremo col segretario regionale del partito per definire meglio la situazione. Intanto la direzione provinciale ha già collocato la festa dell'unità nella città di Gela e questo dopo 11 anni mi sembra già un elemento straordinario che dimostra la centralità che ha questo gruppo dirigente rispetto al gruppo dirigente provinciale e regionale. E quali altri temi Anzio Civignotto oggi avete affrontato? Diciamo che in Consiglio Comunale ci sono delle scalinze importanti che sono la relazione annuale del Sindaco, il bilancio di previsione e il piano triunale delle opere pubbliche. Il gruppo consigliare sta lavorando insieme al partito e abbiamo preparato degli emendamenti qualificanti che riguardano il decoro urbano e l'aiuto alle fasce più deboli. Apprendiamo dalla Stamba che a quanto pare la Giunta ha preparato un maxi emendamento e quindi come si fa una mezza marcia indietro rispetto alla proposta di bilancio di previsione che ha presentato già in Consiglio Comunale. Vedremo, ci vedremo questo maxi emendamento ma è chiaro che la linea del partito è una linea critica nei confronti di un bilancio di previsione che sottratta notevoli risorse alle fasce più deboli delle popolazioni. Non bastano le conferenze stante dell'Aggiunta Messinese sull'aiuto alle fasce più deboli ma utilizzando strumenti messi a servizio della popolazione strumenti messi a disposizione da parte del Governo nazionale, del Governo Renzi. Dunque, dall'ultima riunione che voi avete avuto proprio nella sede del Partito Democratico c'è la conferma attuale che voi siete sempre all'opposizione. Ma su questo non c'è dubbio. Chi perde le elezioni sta all'opposizione. Abbiamo delle scadenze importanti, il libro di consorzi, il referendum dopodiché, come già detto in precedenza, il Partito Democratico si pone come un partito centrale nell'area di centrosinistra che cercherà, insieme agli alleati, di creare un'alternativa credibile, competente al Governo messinese. E la polizia che indaga sull'incendio che la scorsa notte distruttono a Lancia Ipsilon appartenente ad una giovane donna di Gela. L'episodio si è verificato in via Tiepolo a Settefarine. Il fuoco ha anche annerito il prospetto dello stabile in cui assede l'associazione di quartiere. La sezione provinciale dell'Unione Italiana, Cechi e degli Povedenti Ollus di Caltanissetto organizza a Gela uno screening oculistico gratuito con la collaborazione di un oculista e con l'ausilio delle apparecchiature in dotazione ad una unità mobile oftalmica allo scopo di sensibilizzare la comunità sull'importanza del controllo periodico e la salute degli occhi. L'unità mobile messa a disposizione dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Cechi e degli Povedenti Ollus sarà presente a Gela in piazza Umberto I il 12, 13 e 14 settembre prossimi. Le visite saranno effettuate gratuitamente da un medico oculista chiunque si presenti dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Adesso parliamo della vicenda Liberi Consorzi e città metropolitana di Catania. Ne abbiamo parlato con il portavoce del comitato Gelensis Populus Liliana Bellardita. Vediamo. Liliana Bellardita, si parla tanto di città metropolitana di Catania, si parla tanto di Liberi Consorzi. In momento attuale Gela è nel Libero Consorzio di Caltanissetta. Cosa potrebbe accadere da oggi a domani e quando realmente Gela potrà far parte dell'area metropolitana a Tanea? Quello che noi registriamo è che Gela è ancora nel Libero Consorzio di Caltanissetta e in più registriamo anche il fatto che Bianco ha indetto per il 20 novembre prossimo le elezioni di secondo livello per la città metropolitana di Catania. Per cui, voglio dire, si fa un gran parlare da parte di tutti, in particolare del nostro sindaco. Sappiamo che ha dedicato anche uno spazio della sua relazione annuale all'attività che l'amministrazione ha fatto per favorire e incentivare e concretizzare il passaggio di Gela alla città metropolitana di Catania, ma mi pare che i fatti ad oggi parlino più di tante parole. E dunque voi cosa dite oggi come comitato gerensis popolus proprio al primo cittadino di Gela? Di attivarsi immediatamente. In ogni sede, noi a questo punto pensiamo la sola sede giudiziale perché gli manca solo questa, del resto, voglio dire, lo ha anche pubblicamente detto lui all'indomani della seduta dell'Assemblea regionale in cui si era sancito la bocciatura definitiva dei disegni di legge, lui la prima dichiarazione che ha fatto pubblicamente è stata quella di adire le vie legali. Per cui noi oggi, con la nota che abbiamo diramato e con questa occasione, chiediamo al sindaco che cosa ha fatto dall'indomani della bocciatura ad oggi, il ricorso di cui parlava, che fine ha fatto, la concertazione delle azioni con le altre comunità, che fine ha fatto, le tante diffide che sono state inviate da ultimo anche a bianco di non indire le elezioni, che fine hanno fatto. I fatti ci dicono proprio che non hanno sortito alcun effetto. Dunque domande che al momento attuale non hanno alcuna risposta. Riteniamo che il passaggio alla città metropolitana di Catania sia fondamentale e doveroso per due ordini di ragioni. Primo perché abbiamo sempre ritenuto, e questo è risaputo, che il rispetto della volontà popolare che è stata democraticamente espressa è assolutamente imprescindibile. E poi perché riteniamo che il completamento dell'iter amministrativo, questo lo abbiamo sempre sostenuto, è fondamentale ed è precedente, preliminare il rispetto a qualunque tavolo in cui si discuta di politiche di sviluppo, di politiche di investimento per un territorio come quello di Gela, che si deve reinventare, deve reinventare il proprio futuro. Per cui riteniamo che questo passaggio sia assolutamente doveroso. È previsto per mercoledì 14 e giovedì 15 settembre uno spettacolo fotografico organizzato dall'archeoclub di Gela, preseduto da Francesco Russello. L'evento si svolgerà a partire dalle 21.30 sul sagrato laterale della Chiesa Madre. Alcune immagini proietteranno nella retrospettiva dell'ultimo secolo la storia e gli avvenimenti che hanno interessato la nostra città, da Terranova a Gela. Una serie di cartoline e foto d'epoca inedite della ricca collezione di Nuccio Mulè presentate dallo stesso faranno rivivere l'atmosfera di un tempo, dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri. Meriterebbe una ribalta nazionale se non addirittura internazionale il gelese Grazio Mezzasalma che da 30 anni coltiva con grande entusiasmo una passione che perfettamente si innesta nella storia di Gela facendo rivivere con le sue opere i fasti dell'antica Grecia. Mezzasalma riproduce in maniera fedele ed impeccabile antichi tesori di un'epoca gloriosa per la nostra città. Vasi, crateri, peliche, lucernai rivivono nel loro splendore e sembrano davvero appena scoperti da un archeologo. A scoprire questo talento lo storico Nuccio Mulè che ha unito con successo i propri studi scientifici alla passione per la storia. Io sono convinto, sulla base di quello che ho studiato, che Grazio Mezzasalma ha carpito i segreti dell'arte ceramica attica greca. E l'ha carpito abbastanza bene perché è riuscito a modellare e a proporci dei reperti che difficilmente riescono a differenziarsi da quelli veri. Per il semplice fatto, ripeto, che ha scoperto il segreto della ceramica attica. Ma non solo, ha scoperto i due segreti della ceramica attica perché, per chi non lo sapesse, la ceramica attica è divisa in due periodi. Quella che va dal 580 al 520 ed è a figure nere sul fondo rosso e quella che va dal 520 al 330, sempre avanti Cristo, a figure rosse sul fondo nero. Lui è riuscito a scoprire, semplicemente utilizzando argilla ferruginosa di un certo valore e una monocottura in tre fasi, come si faceva allora un vaso e come lo fa adesso. Come ha scoperto questa sua passione, ma soprattutto da dove è nata? Questa passione nasce tanto tempo fa, non è una cosa semplice perché all'inizio io sono stato innamorato dall'argilla e successivamente ho conosciuto una persona anziana che tempo prima faceva il lavoro di questo genere, di tornio, non di pittura, cioè come i cosiddetti bummola, eccetera, eccetera, tegole. E quindi io, conoscendo questa persona, vedi ciò che riuscivo a fare senza tornio e si innamorò di me e allora lui mi dite la spinta. Lei come realizza queste riproduzioni guardando fedelmente il modello originale? Sì, perché ormai io sono dentro, riesco a capire il modello del vaso, come si chiama il vaso, riesco a capire come viene adoperato l'argilla e per cui adesso per me diventa facile. Ma non è stato così, perché io nel corso per arrivare fino a qua ho avuto dei passaggi, delle tappe, non è che sono arrivato qui. Devo dire che sono passati 30 anni, non un giorno, 30 anni. Peraltro lei è anche fortunato perché il suo talento si innesta, tra l'altro, in una città che è la patria, è stata, ma lo è ancora, la patria di questi oggetti così preziosi. È vero, io confermo questa. E devo dire su questo soggetto, su questa risposta, io sono un po' arrabbiato, sono un po' arrabbiato con coloro che hanno una poltrona e che io, diciamo, ho passato di queste poltroni, di questi personaggi, non hanno fatto stima. Io, non solo per il fatto del comune, ma sono andato nelle scuole perché io volevo dare un contributo a queste scuole presentando un normale domanda, eccetera, eccetera, ma in realtà non ho avuto nessuno riscontro. E ne dico l'El Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport, diffusione comprensoriale, fondato e diretto da Rocco Cerro. In prima pagina la politica. C'è fermento dopo la pausa estiva. In consiglio comunale il sindaco rintuzza gli attacchi dell'opposizione e tira avanti il resoconto dell'ultima seduta consigliare dedicata al question time di Nello Lombardo. Giulio Cordaro nella sua rubrica settimanale Politicamente scorretto discetta sull'arte del mentire in politica prendendo lo spunto dalle vicende pentastellate al comune di Roma. All'interno un'intera pagina all'ultimo festival del golf e un'intervista al segretario interprovinciale della CISL Emanuele Gallo. Si parla di aumento delle bollette idriche e delle iniziative intraprese dal sindacato. C'è poi la pagina delle aste giudiziarie e lo sport con i servizi di Orazio Accomando sul Gela Calcio e di Zaira Placenti sul Terranova. Nelle pagine sportive il calendario del campionato di calcio di eccellenza e in ultima la pagina degli annunci economici gratuiti. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo che domani sera subito dopo il TG Silos intorno alle 21 andrà in onda il saggio della scuola di danza di Claudia Trainito. La registrazione della decima edizione del Festival del Golf andrà in onda martedì prossimo alle 21. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Tante bici in giro per Gela con la pedalata assistita. Il coordinatore regionale FIAB Sicilia, Simone Morgana, si congratula con gli imprenditori che hanno avviato diverse attività commerciali per il noleggio di biciclette. Pedalare è sempre utile, riferisce Morgana, soprattutto quando la bici si sostituisce all'automobile restituendo spazio alle persone. Poco importa se si tratta di bici a pedalata assistita o di bici a propulsione muscolare. Quello che conta, chiude Morgana, è che lo spazio pubblico ritrovi una sua dimensione umana. Masterclass di danza classica moderna e contemporanea al Teatro Eschilo con Alessandra Celentano, insegnante di danza classica e Cristian Lopresti, danzatore della Scuola di Amici. L'appuntamento è per oggi, informazioni, ci si potrà regare al botteghino oppure contattare i numeri di telefono La Vespa, simbolo di libertà e dispensieratezza, diventa un mezzo per fare del bene. Il Vespa Club di Caltanissette, infatti, unisce lo spirito di competizione alla solidarietà, devolvendo il ricavato della gincana vespistica organizzata presso il villaggio Santa Barbara lo scorso luglio. L'obiettivo è quello di sostenere l'ANXA, l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Accendere i riflettori sull'autismo e sensibilizzare la popolazione è questo il motivo che spinge 5 vespisti a compiere il Giro d'Italia in Vespa. All'interno dei 7300 chilometri di percorso, i vespisti fanno tappa a Caltanissetta, accolti dal Club Nisseno. Il progetto L'autismo sale in Vespa, in Vespa sulle orme di San Francesco, ha avuto inizio lo scorso 3 settembre ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, e si concluderà a Barletta il prossimo 2 ottobre. Sporremmo di Caltanissetta storicamente si è sempre interessato di solidarietà. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di accreditarsi al Giro d'Italia in Vespa, lo scopo di questi grandissimi uomini che stanno girando l'Italia, che comunque complessivamente faranno 7300 chilometri, è quello di far conoscere alla popolazione, o comunque a coloro i quali non sono a conoscenza di questa patologia, l'autismo, che naturalmente è un fenomeno che è molto diffuso ma poco conosciuto. Quindi lo scopo principale loro è quello di cercare di dare un segnale, un'immagine, e soprattutto fare conoscere alla gente questo fenomeno. Io conosco bene il mondo vespistico. Gli appassionati di Vespa, diversamente da altri appassionati di due ruote, hanno un cuore diverso, un cuore più grande. Sicuramente, siccome la Vespa è conosciuta da tutti, è stato il primo mezzo che ha motorizzato l'Italia, e tutti gli italiani la conoscono, era il modo migliore per poter utilizzare questo strumento e gli iscritti per diffondere questa parola autismo, che è molto semplice, molto piccola, ma dietro è molto grande, piena di problemi e piena di situazioni molto particolari. Giornata della solidarietà domani alle 10.30 in Piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa è giunta alla sua undicesima edizione, promossa dal Veteran Motor Club in collaborazione con la sottosezione dell'Unitalsi. Adesso parliamo di calcio. Debutto casalingo domani per il Gela. Al Presti la compagine Biancazzurra riceverà la visita del Sersale. Ieri sono stati presentati gli imprenditori che hanno sposato il progetto calcistico. Ritorna alla Serie D sul rettangolo di gioco tra Vincenzo Presti. Domani alle 15 il Gela affronterà il Sersale nell'ambito della seconda giornata del campionato e il debutto dinanzi al proprio pubblico. La Lega ha concesso una deroga. Dal lunedì prossimo finalmente cominceranno i lavori. Giocare davanti ai propri tifosi e sul proprio campo è importante. I Biancazzurri si presenteranno all'appuntamento di domani dopo il buon pari conseguito domenica scorsa a Pomigliano d'Arco. Un punto pesante per gli uomini di Pietro Infantino conquistato dopo giorni terribili a causa di una crisi societaria senza precedenti. Finalmente la burrasca è passata. Intanto nelle ultime ore la dirigenza presieduta da Francesco Duccio ha tesserato altri giocatori. Si tratta del difensore Gambuzza e degli esterni offensivi Kosovan e Bonanno. Tornando alla partita di domani bisogna tenere alta la concentrazione. Il sarsale battuto all'esordio domenica scorsa in casa dal Gladiator venderà cara la pelle. Nulla è scontato in questo campionato. Intanto ieri pomeriggio sono stati presentati gli imprenditori gelesi da anni residenti nel nord Italia in cui lavorano che hanno sposato il progetto Gela. Si tratta di Angelo Emanuele e Antonio Mendola. detengono il 40% del pacchetto societario bianca-azzurro, il 60% è della famiglia Tuccio. Hanno detto sia il Gela perché crediamo, hanno riferito, che le imprese debbano investire nel sociale e nello sport. Il gruppo Mendola entra in questa società. Con quale scopo, con quale obiettivo Mendola? Allora, io devo ringraziare l'ingegner Tuccio la quale ci ha fatto entrare sulla diligenza col 40% perché abbiamo visto anche che alcuni imprenditori si sono fatti avanti però hanno individuato il nostro gruppo. Da lì noi abbiamo deciso di entrare perché chiaramente essendo che siamo gelesi abbiamo dato una mano alla città di Gela. Il legale che ha rappresentato il gruppo Mendola durante le trattative, ossia l'avvocato Fabio Fargetta durante la conferenza stampa al Comune diceva appunto che questo gruppo, pur non lavorando a Gela però ha sentito il cosiddetto senso di appartenenza che è un po' quello che in genere in questa città non solo nel calcio è mancato. Noi abbiamo deciso di entrare sul Gela Calcio perché siamo i gelesi nel senso che essendo che siamo i gelesi però operiamo a Nord Italia devo dire che praticamente noi in Gela non operiamo facciamo lavori fuori quindi sempre con i gelesi la passione è stata chiaramente perché in primis a noi il pallone piace e quindi abbiamo visto le difficoltà diciamo del Gela Calcio si siamo portati avanti con la trattativa e da lì è nato diciamo il concordato. 40% come inizio o 40% come punto d'arrivo? Volevamo prendere il titolo a pieno ritmo però questo non è possibile perché il gruppo ha deciso per il momento di essere diciamo in vetrina e verificare un attimo come vanno le cose con la dirigenza tutto lì diciamo il discorso. Per concludere tre fratelli però il vero calciofilo mi pare di capire è proprio lei. Guardi io ho avuto da piccolo diciamo giocavo a calcio abbiamo vinto tutto il settore giovanile qua Gela ai tempi quando c'era la Juventina era in eccellenza non c'era una struttura adesso magari qualche struttura in più c'è poi ho fatto tutta la trafila dell'Icata Calcio ai tempi diciamo del professionismo ai tempi di Zeeman ho fatto tutto il settore giovanile da lì è nata anche la passione per entrare nel mondo del calcio diciamo a livello di licenza domani comincerà l'avventura nel campionato di eccellenza per il Terra Nova Gela la compagine giallorossa affidata al tecnico Angelo Vedda sarà di scena a Caltanissetta contro la Nissa un derby alla prima giornata che promette spettacolo continua nel quartiere residenziale di Macchitella la rassegna dell'Eddy Is the Trump promossa dal direttore artistico Francesco Castellana con Anna Salsetta alla produzione esecutiva e con Francesco Trainito alla produzione tecnica mercoledì 14 settembre prossimo alle 22 si esibirà Anna Bonomola accompagnata da Diego Spitaleri era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui a tutti voi un buon fine settimana arrivederci a tutti i rifiuti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.